Primo in classifica in condominio con la San Cataldese, il Gela non vuole smettere di stupire, anzi bisogna continuare sulla strada intrapresa. L'obiettivo è la Serie D. Lo merita una città soffocata da una grave crisi occupazionale che proprio nel calcio ripone le speranze. È consolidato il legame di sangue che esiste tra la formazione Biancazzurra e i Gelesi. E lo si è ampiamente dimostrato domenica scorsa proprio in occasione della sfida con i San Cataldesi, uno stadio strapieno. Come ai vecchi tempi della Lega Pro, la dirigenza preseduta da Angelo Tuccio ha messo a disposizione del tecnico Totò Burculeri una squadra che non è seconda a nessuno. Anzi, come ampiamente dimostrato e prendendo in prestito le parole di chi mastica calcio da sempre, è la squadra più forte del girone A del torneo di eccellenza. Ci sono stati dei momenti difficili, così come prevedibile, in un campionato assai rigorante e duro, ma la truppa Biancazzurra si è subito ripresa. Ora è in testa e ci vuole rimanere fino al termine della stagione regolare. Prossimo impegno domenica sul campo del Camarat nell'Agrigientino, una gara che presenta numerose insidie. Ecco perché i giocatori stanno preparando al meglio la sfida. Il Camarat in classifica si trova in piena zona play-out con 17 punti ed è reduce dalla pesantissima sconfitta 3-0 subita a Mazzara. Anche a Camarata saranno presenti in massa i tifosi della curva Angelo Boscaia. Si stanno organizzando dei pullman per le adesioni. È possibile rivolgersi presso la cartoleria Pausa Internet di Via Venezia 316 o direttamente ai ragazzi della curva durante gli allenamenti pomeridiani del Gela. La quota di partecipazione è di 10 euro per il pullman, mentre il biglietto stadio sarà acquistato direttamente al botteghino. Ieri sera intanto il gruppo Vecchio Stile 87 è un'occasione del 27esimo compleanno di Emanuele Labbiso. Il giovane tifoso scomparso tragicamente a seguito di un incidente aereo assieme al padre Giuseppe ha promosso un corteo che è partito dall'ingresso della curva Angelo Boscaia ed ha raggiunto l'esterno dello stadio dove è situato il murales dedicato a Nele Svizzero. In ricordo di Emanuele sono stati deposti mazzi di fiori ed una sciarpa bianca azzurra. Ritornando alla partita di domenica scorsa con la San Cataldese, anche il cliccatissimo portale web della Gazzetta dello Sport ha deciso di postare il video del gol di Bonaffini dando la giusta importanza. Il titolo è emblematico. Bonaffini, gol champions? No, eccellenza.